Buonasera, sono Roberto Traverso del Teatro Outoff. Allora, prima dello spettacolo, come è un po' nostra tradizione per gli spettacoli, soprattutto per quelli che produciamo noi, che abbiamo quindi la possibilità di proporre con tutta l'attenzione al pubblico che noi desideriamo, abbiamo organizzato una serie di incontri. Il tema della cucina è evidente perché lo spettacolo si intitola Notte di Cucina e quindi è un tema in questo periodo, poi oltretutto è anche molto pregnante e molto al centro di tante cose. Noi abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri che ovviamente insistessero su questo argomento e che portassero dei piccoli approfondimenti, dei piccoli punti di vista, senza avere la pretesa quindi di fare delle conferenze, anche perché ovviamente siete venuti qua per vedere lo spettacolo. Questa sera c'è qui, tra il pubblico, Pietro Lehmann, che invito a salire sul palco. La panca che ci ospita è di scena, per cui speriamo che regga. Pietro Lehmann non avrebbe bisogno di presentazioni, essendo una delle massime autorità nel campo della cucina. Io credo che già nel nome che hai scelto per il tuo ristorante, Alta Cucina Naturale, ci sia forse, non è a caso che è messo in questa dimensione, cioè che la cucina possa essere ai massimi livelli, come la tua cucina, e anche naturale, ovviamente, non quindi artefatta. Ti lascio la parola. Grazie. Bene, è un piacere, un vero piacere essere qua. Poi mi piacciono molto queste unioni tra vari modi di esprimersi, perché in fondo anche la cucina per me è un modo, ovviamente, per esprimere qualche cosa. Ho già fatto anche degli esperimenti con artisti, con musicisti, ed è sempre molto stimolante, perché io ho sempre molto da imparare, perché spesso poi cucinando non si vede bene che cosa succede dall'altra parte, non ci si mette mai abbastanza in discussione. Poi oggi, come si vede, si cucinerà anche, quindi mi rubano la scena. E il senso, in realtà, di quello che vorrei parlare oggi è, perché qui si parla anche di sprechi, poi si parla anche di Leonardo da Vinci, che è un personaggio che mi sta molto a cuore, ho curato anche la prefazione per un libro che sta uscendo adesso, però che sta molto a cuore oggi ed è un tema pregnante, è quello che è poi il tema dell'Expo anche, del quale teoricamente si dibatterà in questi mesi, e in fondo il gioia è un po' nell'occhio del ciclone, perché quello che io faccio, il mio ristorante, è un po' come teoricamente potrebbe, dovrebbe essere, il modo di mangiare e di essere. Ho iniziato a frequentare un po' l'Expo nelle prime occasioni che ho avuto, e io spero, io ce la metterò tutta per dire il più possibile, e spero anche che ci sarà un dibattito. In realtà è un dibattito sempre un po' difficile per un senso culturale, mediamente le persone non sono abituate a riflettere molto e nemmeno a scegliere molto il cibo che poi sarebbe giusto mangiare per loro, e viviamo in un mondo anche di paradossi, perché se ci guardiamo abbiamo un corpo sano e facciamo di tutto per rovinarcelo e per ammalarci, come se ammalarsi fosse una cosa normale, c'è un fine nel quale tutti finiscono, ma non è mica così, noi siamo sani e tendenzialmente dobbiamo rimanere sani, quindi la scelta del cibo in questo senso è fondamentale. Poi viviamo in un pianeta che è straordinario, bellissimo, pieno di colori, un posto, un luogo bellissimo da vivere, un vero Eden, e ce la mettiamo tutta per rovinarlo, per usarlo, per abusarne, e anche questo non ha molto senso. Io così osservando le persone vedo che spesso ci dibattiamo in qualche cosa che non sappiamo bene dove finirà, quindi le persone brancolano il buio e perdono quello che è un vero senso dell'esistenza, che è quello di star bene nella vita che facciamo e in ciò che proponiamo nella nostra vita. Rispetto al cibo, il cibo è determinante per molti aspetti, volendo creare un'immagine, letteralmente in questo momento ci stiamo mangiando il mondo, e quindi lo stiamo costumando, lo stiamo rosicchiando, oltretutto non per un senso ulteriore, ma fine a se stesso. E l'unico modo perché ci siano dei cambiamenti costruttivi nel futuro, sarà quello di cambiare il modo di mangiare, il nostro modo di alimentarci, perché tutto parte da lì. Se le persone cambiano lo stile alimentare, alimentare ogni cosa cambia. E lo stile alimentare oggi è troppo sbilanciato verso quella che è la carne, le proteine animali, che hanno in realtà un costo per la salute, per l'ambiente, senza parlare della sofferenza verso gli animali, che è troppo alto e non ha senso di assumersi. E con la mia cucina in questi anni ho cercato di portare avanti la sfida di cucinare una cucina che non ha bisogno di quel fardello da portarsi dietro. E anche su questo c'è qualcosa che va svelato e sciolto, perché in realtà chi mangia sano dovrebbe essere premiato in qualche modo, come una persona riesce a smettere di fumare, e dovrebbe essere premiato perché smette di fumare. Invece si è come messi tutti su uno stesso piano ed è sbagliato. E in realtà, per esempio, la sanità sta boccheggiando, perché non riesce più nemmeno a assumersi tutto ciò che succede per un modo di mangiare sbagliato. Quindi quello che io propongo e sostengo sempre è che la carne non dovrebbe costare il pollo 3-4 euro al chilo, e magari quel pollo è stato prodotto in Brasile in qualche levamento terribile, ha fatto il viaggio fino qua, ci hanno guadagnato chi l'ha levato lì, ci ha guadagnato chi l'ha portato, ci ha guadagnato l'intermediario, costa ancora 3-4 euro sulla tavola, poi le persone si ammalano mangiando quel pollo, quindi la sanità deve coprire questo. In realtà probabilmente il prezzo di quel pollo dovrebbe essere 300-400 euro al chilo, allora tutto si appianerebbe in modo molto semplice, perché il vero valore messo sul tavolo di quel cibo dovrebbe essere quello. Invece, paradossalmente, le verdure costano di più, le verdure biologiche, che poi sono quelle che sarebbe giusto scegliere, costano ancora di più, ma è un paradosso, perché in realtà le verdure biologiche non hanno un impiapato con l'ambiente, quello che invece hanno le coltivazioni convenzionali, ma nessuno ancora si assume quell'aspetto, quindi nessuno ancora si assume di disinquinare, e non c'è ancora abbastanza sostegno in questo senso. Però tutto questo è un'immagine dall'esterno, ma in realtà ciò che è ancora bellissimo, che ognuno di noi può portare avanti delle scelte, decidere che cosa fare, decidere che cosa comprare e decidere anche che cosa mangiare. E su questo c'è un altro aspetto interessante, che è quello che le persone spesso, nonostante abbiano la facoltà di scegliere, non ne fanno più uso, non fanno più una scelta. E c'è quasi, si direbbe, ed è un po' anche così, un interesse che le persone non scelgano, perché se non scelgono diventano dei buoni clienti per un certo tipo di mercato. Invece lo stimolo, anche quello che io propongo con quello che faccio, è portare le persone a una riflessione e di conseguenza a una scelta precisa. E la scelta li porta non solo a fare ciò che è giusto per loro, che poi il giusto per ognuno è completamente diverso, perché per esempio il giusto per me, su di me, è essere vegetariano, mangiare vegetariano, ma per esempio per qualcun altro può essere una cosa diversa. Però deve essere lui che ha fatto una scelta che lo porta in una direzione precisa. E sulla scelta poi si gioca un po' tutto il senso dell'esistenza, perché l'esistenza non è solo un vivere e consumare basta, ma si vive e si consuma per un motivo altro, per un motivo oltre. E come spiegano i mistici o le filosofie, c'è anche un senso di miglioramento, un senso evolutivo. E l'evoluzione viene fatta attraverso una scelta. Ma se noi non facciamo nulla e subiamo solamente quella che è la nostra esistenza, si tende sempre a osservare dall'esterno che cosa sta accadendo. Anche all'Expo si osserva i fenomeni del mercato, che cosa fanno le persone. In realtà le persone fanno ciò che gli viene suggerito di fare oppure ciò che decidono di fare. Ma se non decidono di fare, non fanno nulla di diverso. Anzi è un continuo degenero verso un modo culturalmente basso di mangiare, ma non solo nell'ambito culturale. Immagino anche in un ambito di cultura del cinema, di scrittura, di qualsiasi tipo di forma, di espressione. Però in questo senso evolutivo la scelta è fondamentale e ci mette a confronto con noi stessi. Ogni volta scegliendo ci poniamo se ciò che stiamo facendo è veramente giusto per noi. E la cosa interessante è che con il cibo questo atto lo facciamo tutti i giorni. Quindi noi ogni giorno ci mettiamo davanti a un piatto che in qualche modo rappresenta chi noi siamo, chi noi siamo come nostra filosofia, quindi noi mangiamo e esprimiamo chi siamo noi. Io esprimo col mio modo un mio certo essere, però in questo cibo mi specchio anche. Quindi io mi confronto con lui e mi pongo se ciò che sta facendo è corretto per me e che cosa mi porta a mangiare in quel modo. E drammaticamente, che poi è anche bellissimo, perché poi il fatto di scegliere è un aspetto storianamente bello e interessante, ma drammaticamente ciò non viene fatto. Quindi io per esempio sono figlio degli anni 60 e mi è stato insegnato di mangiare in un certo modo e poi negli anni mi sono reso conto che questo modo non mi corrispondeva. ma questa emancipazione che ho avuto è stata frutto di una riflessione che era fondamentale, perché fondamentalmente prima ero scollegato da chi ero io veramente in ciò che facevo. E il fare nasce proprio dal, moltissimo da ciò che poi decidiamo di mangiare, perché l'atto alimentare è un atto importante. La famosa frase dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei può essere voluta pensando alla trasformazione che ci dà il cibo che facciamo. E quindi cambiando il modo di mangiare decidiamo noi chi essere e non subiamo più ciò che noi diventiamo. E su questo poi nasce a corollario di tutto un aspetto fondamentale legato al cibo che è legato molto alle relazioni, alla relazione con il cibo ma anche con chi ci sta attorno. Oggi secondo me in questo spettacolo si dibatterà molto questo aspetto, però la relazione è fondamentale e in fondo la nostra vita si basa tutta sulle relazioni che quando sono di successo ci rende, siamo più sereni e quando sono meno di successo ci intestiamo e la vita si complica perché la vita della maggior parte di noi anche se osservo la mia tantissimo spesso si è complicata inutilmente proprio nelle relazioni quindi poi il viver diventa complicato. E ancora una volta col cibo la relazione diventa importantissima perché col cibo esprimiamo chi siamo e quindi ci relazioniamo con gli altri esprimendo qualche cosa ma si instaura anche una relazione una relazione ad esempio con la natura quindi c'è la nostra relazione tra noi e gli altri ma anche tra noi e la natura che è fondamentale quindi se mangio un cibo che rispetta la natura raccolto raccolgo un certo frutto che è interessante e mi nutre in modo migliore invece se io per esempio aggredisco la natura coltivando in un modo che la usurpa raccolgo altre altre conseguenze poi un'altra relazione importante è con gli altri esseri perché io posso essere amico del mio gatto del mio cane ma poi devo cercare di essere anche amico della mucca del vitello e anche lì le relazioni sono fondamentali perché se io sono amico di tutti raccolgo dei migliori frutti e sto meglio io stesso e poi la relazione più alta quando tutte le relazioni funzionano è poi la relazione col Supremo con Dio che è la somma relazione però è una somma relazione che si sviluppa al momento in cui mi sento in pace in relazione in modo pacifico con tutto ciò che mi sta attorno quindi con me stesso con gli altri attorno a me con la natura e con gli esseri allora posso ambire a un sopra è un aspetto per chiudere per me è fondamentale che in questa dinamica di dare avere c'è un c'è un un riflesso perfetto perché ciò che io esprimo e do lo ricevo di conseguenza in modo matematico e perfetto e anche su questo spesso ci scolleghiamo perché noi non vediamo il fine dei nostri atti quindi noi agiamo un po' come degli elefanti in un negozio di cristalli facciamo dei danni raccogliamo le conseguenze ma senza sapere quali sono esattamente le conseguenze e questo sta al centro di tutto perché in realtà noi dentro di noi in modo molto istintivo molto profondo noi sappiamo sempre esattamente che cosa è giusto a fare quando ci troviamo nei bivi noi sappiamo esattamente qual è la giusta scelta per noi ma magari non la facciamo o non ci proviamo nemmeno a farla andiamo in un'altra direzione e poi ci ritroviamo ad essere nel buio e quindi in questo brancolare raccogliamo delle conseguenze che sono inaspettate allora lì nasce l'arte del vivere l'arte del vivere è quando noi sappiamo che cosa generiamo e quindi produciamo ciò che genera qualche cosa che ci porta del bene a noi stessi e su questo il modello alimentare è fondamentale cioè se noi scegliamo una cucina pacifica quindi vegetariana se scegliamo una cucina amica del pianeta quindi biologica o biodinamica se noi scegliamo di essere amici non solo della nostra marito e della nostra moglie ma di tutte le altre persone raccogliamo necessariamente i buoni frutti ma è qualche cosa che non è da inventare che lo sentiamo che è giusto così è più giusto aiutare la vecchietta a attraversare le strisce che non abbandonare lì e tutti ognuno di noi sente che questa cosa è giusta solamente che in questo giro ci siamo scollegati a questo e su questo siamo profondamente responsabili perché ognuno di noi è responsabile di se stesso anche se qualcuno ci inzubisce e ci dice devi mangiare quello devi fare quello devi fare quest'altro perché in primis lo scopo di ognuno è prendersi in mano e agire in una direzione precisa per noi stessi ecco spero che quello che vi ho portato può essere stato nutriente secondo me lo spettacolo sarà molto più interessante grazie mille di avermi invitato grazie grazie a te grazie a te